Ciao, io sono Magi Graff e ti porterò nel fantastico mondo della grafica e della pubblicità In questo terzo episodio parleremo dei social media marketing e lo faremo sempre seguendo la vettura dell'agenzia Gap Ragazzi, sto venendo dall'appuntamento con Gennaro Stona cantando Il famoso cantante che ha vinto la scorsa edizione Xtractor Ha smesso la telegabezza Signorina Cordo Ciao Signorina Cordo Signorina Cordo Ma comunque le stavo dicendo Io ho messo qualcosa per comunicare con i miei tantissimi fans Come che dico sono la? Faccio ebook, Instagram Potremmo aspettare un business planning con testi di social media marketing Signorina Cordo Signorina Cordo Io non voglio stare un po' qua internet Voglio far sapere i miei fatti Voglio far vedere alle persone i miei selfie Non voglio fare più di Tardamp, Ciccione, Gianni Morandi Perché quando andiamo arrivando e che scivano C'è stata sempre la mentre Lascio il superuso a tutti i miei fatti Insomma, dobbiamo trovare una soluzione per posizionare al meglio Gennaro Stona cantando su internet Bisogna fare in modo che possa raggiungere più fanze possibile Adesso intervengo io Video 1 Creiamo una pagina Facebook, un profilo Instagram e un account Whatsapp al signor Gennaro Stona cantando Grazie Ora sappiamo che un'agenzia pubblicitaria si può occupare anche del social media marketing Ossia l'ideazione, la gestione e la promozione di pagine Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, ecc. Ma sono ancora tantissime le cose da dire sulla grafica Per cui vi do appuntamento al prossimo episodio Per conoscere ancora meglio il mondo della pubblicità Criatini si diventa! Grazie a tutti!